Il modo più semplice per iniziare un percorso di approfondimento dei vini, dei territori e anche dei microterritori del Friuli Venezia Giulia è quello di partire dalla zona centro-orientale, quindi siamo ad est di Udine e andiamo a focalizzarci sui colli orientali del Friuli. I colli orientali hanno una parola d'ordine che forse li caratterizza e identifica la perfezione, ovvero l'equilibrio. Un equilibrio culturale, un equilibrio di lingua, di tradizione, ma anche un equilibrio di quelli che sono i vitigni che troviamo all'interno della regione Friuli Venezia Giulia, anche per quanto riguarda le tradizioni di andare a fare vino. Abbiamo detto che la regione allargata è rappresentata ed è identificata da un 70% di produzione dedicata ai vini a bacca bianca, ai vitigni a bacca bianca. In questo caso invece quando parliamo dei colli orientali del Friuli abbiamo tra la produzione dei vini bianchi e dei vini rossi un equilibrio quasi perfetto perché siamo intorno al 50% e 50%, quindi un qualcosa di più unico che raro. Qui troviamo però anche una grandissima espressione con quelli che sono i vini dolci, quindi effettivamente l'equilibrio è molto interessante, ma lo troviamo anche proprio nell'espressione dei vitigni, perché sia i vitigni internazionali che gli autottoni trovano una casa perfetta, quindi è un palcoscenico in cui possiamo andare a mostrare tutto quello che è il potenziale del Friuli Venezia Giulia. Ma cerchiamo di vederlo un po' nell'insieme, perché parliamo di equilibrio? Tanto quando parliamo di colli orientali dobbiamo fare riferimento anche a quello che è il clima forse più umite in assoluto che possiamo trovare all'interno della regione, perché le prealpi giulie giocano un ruolo fondamentale. Vanno a mitigare abbastanza quelle che sono le temperature, portandole verso delle escursioni termiche importanti ma mai eccessive. Se guardiamo invece al lato sud, entrano, subentrano quelli che sono dei venti provenienti proprio dal Golfo di Trieste, dal Mar Adriatico, ma non giocano un ruolo così fondamentale perché ovviamente per arrivare a questo che è un territorio che dista qualche decina di chilometri dal mare, quindi il vento ovviamente, i venti anzi, perdono un po' la loro forza e le prealpi giulie comunque fungono da scudo per quelli che sono i venti invece che provengono da nord. Quindi è un clima un po' più mite sotto molti punti di vista. Anche l'aspetto collinare è interessante perché le colline mediamente sono sui 200 metri di altitudine, la composizione del suolo, del terreno stesso, è la classica ponca che appunto troviamo sulla parte orientale del Friuli, a ridosso della Slovenia, ma anche caratterizzata da un equilibrio un po' più presente tra quella che è la parte arenaria e la parte marnosa ed è molto interessante da questo punto di vista. Vediamo ovviamente i classici terrazzamenti che sono mirati proprio a cercare di tutelare la vite e di prevenire quello che è il fenomeno di scalzamento proprio della pianta stessa, quindi si cerca di dare stabilità da questo punto di vista. È uno dei territori più ampi in assoluto della regione, infatti riguarda circa 19 comuni, tra cui possiamo citare alcuni dei più importanti, dei più famosi, Tarcento, Nimis, andiamo a incontrare anche Corno di Rosazzo, Prepotto, soprattutto Cividale del Friuli. Cividale già in antichità, ai tempi dei Romani, prima di Cristo, era considerato insieme a Aquilei appunto uno dei punti più importanti per la produzione di vino nel nord-est italiano ed era chiamata al tempo Forum Giuli. Poi ovviamente questo è il nome del territorio che verrà ripreso e darà nome proprio alla regione. Quindi abbiamo dei comuni importanti, abbiamo anche delle sottozone, proprio a identificare come l'aspetto qualitativo e focus sulla zona azione è stato preso in considerazione. Molte di queste sottozone poi hanno dato vita addirittura delle DOCG, perché troviamo quella che è la sottozona di Faedis, troviamo la sottozona di Ciala, che quando diciamo Ciala appunto, se stiamo parlando del Picolit in questo caso, rappresenta forse la massima espressione qualitativa. Quelle che sono le rese previste da disciplinare, per esempio, della denominazione allargata dei colli orientali, qui scendono. Generalmente si parla di un 70% di resa quando andiamo nel territorio di Ciala, invece le rese scendono e non di poco. Andiamo poi a trovare il territorio di Prepotto e dopo le due sottozone che sono diventate addirittura delle DOCG rappresentate appunto da Ramandolo e da Rosazzo. Questo ci fa capire però veramente l'importanza di questo territorio. Che dicevamo essere molto eterogeneo nelle sue espressioni. Intanto il concetto di Super Whites all'italiana nasce probabilmente qua e lo dobbiamo a dei produttori tipo Livio Felluga. Quindi facciamo riferimento a quello che è il territorio di di Rosazzo, dove dal friulano abbiamo avuto anche dei blend con i vitigni internazionali proprio per cercare di dare più importanza, più volume, ma di rendere anche questi vini un po' più aristocratici, senza mai negare quello che però è la tradizione vera del territorio. Dicevamo l'equilibrio tra i vitigni. Intanto abbiamo una produzione che riguarda i vini ottenuti dai vitigni a bacca bianca che riguarda, quando facciamo riferimento alla denominazione, appunto 12 tipologie, di cui una ovviamente è i colli orientali bianco, dove si può lavorare sul blend classico. Quindi partiamo dal friulano di solito e poi andiamo ad avere all'interno quelli che sono vitigni internazionali, vitigni autotoni. Abbiamo poi la possibilità di avere la versione dolce per quanto riguarda appunto il verduzzo e per quanto riguarda il piccolit e dopo abbiamo invece i 10 vitigni autorizzati a bacca bianca del territorio, che sono quelli proprio classici, dai internazionali, quindi dallo chardonnay al sauvignon blanc, per intenderci, arrivando a toccare poi invece quella che è proprio l'identità propria del territorio, che riguarda la ribolla, la malvasia, il friulano e via dicendo. Abbiamo poi la versione invece rossa della denominazione, con 11 tipologie, di cui una riguarda la riserva e si fa riferimento alla riserva con due anni di invecchiamento, non necessariamente in legno, presso il produttore. Poi abbiamo le 10 versioni invece che riguardano le espressioni in mono vitigno, oppure ovviamente c'è anche l'espressione in blend. Qua troviamo sia i vitigni internazionali che quelli autotoni. Sugli internazionali ovviamente i classici Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, il Merlot, il Pinot Noir, giusto per citarne alcuni, e poi abbiamo questa identità tipica friulana che è rappresentata dal Re Fosco, che qua trova comunque delle espressioni molto importanti, lo schioppettino che a prepotto, ricordiamoci, raggiunge la sua massima espressione qualitativa, quella proprio riconosciuta, questo è stato uno dei ultimi avamposti di questo vitigno. Troviamo anche però il Pignolo, che svolge un ruolo molto molto importante all'interno dell'areale, ma troviamo anche dei vitigni quasi dimenticati, tipo il Tazzelenge, che vale la pena citare. Poi andremo ad approfondire gli altri, ma il Tazzelenge, che è un vitigno che era stato quasi dimenticato, si era smesso di produrre nella sua quasi totalità vino con questo vitigno, perché era un vitigno difficile. Un vitigno che ha nella tannicità l'aspetto più importante, tanto Tazzelenge il nome viene poi dal dialetto locale, vuol dire taglialingua, proprio a evidenziare come questo tannino sia molto astringente. Consideriamo che i rossi in generale nella denominazione dei colli orientali sono caratterizzati dalle note leggermente erbace al naso e da una discreta astringenza in bocca, mentre i bianchi tendono ad essere più floreali ed avere comunque tanta struttura e un'acidità non troppo elevata. Forse la sapidità può essere più importante rispetto all'acidità se parliamo delle durezze. Tornando però al Tazzelenge, il Tazzelenge ha questa caratteristica dove l'aspetto dei polifenoli è molto importante. È un vitigno non semplicissimo, ha bisogno intanto di un suolo non troppo generoso, perché un suolo troppo generoso andrebbe proprio a mettere in evidenza ancora di più questo aspetto della tannicità, rendendolo quindi un vitigno che dà dei vini quasi imbevibili, proprio per questa sensazione di asciutto che dà al palato. È un vitigno quindi che nel suolo di ponca trova la sua espressione perfetta. Intanto lo riconosciamo perché ha una bacca estremamente prunosa e tende già al bluastro. Ricordiamoci che i vitigni che hanno questa colorazione che tende al bluastro spesso e volentieri ci danno appunto informazioni di questa ricchezza di polifenoli, questa ricchezza anche cromatica che poi ritroviamo nel vino con vini che tendono a essere di colore, tendono a essere fitti proprio nella loro espressione di rosso e poi appunto in gioventù soprattutto hanno queste espressioni, queste colorazioni che tendono un po' al violaceo, quindi un rosso rubino che tende un po' al violaceo. Questa è proprio la connotazione del tazzalenge che qui trova appunto la sua espressione perfetta, non ha bisogno di grandissima ventilazione, è un vitigno che riesce a reggere abbastanza bene il confronto con varie malattie classiche, quelle che sono date proprio dall'umidità, anche perché ha comunque una buccia abbastanza spessa e coracea. Andiamo a lavorare oggi dei vini che sono meno rustici con questo vitigno, l'affinamento in legno diventa importante, è vero che il legno ci porta ulteriore tannino però dà possibilità al vino di andare verso la complessità. I vini ottenuti da tazzalenge va però precisato, se vi capiterà di confrontarvi, che o piacciono o non piacciono. È veramente difficile che si rimanga nel mezzo. Nella riscoperta di vini più materici, più di grip, inizia a rivestire proprio un ruolo trainante per quanto riguarda gli autoctoni della regione. Però è sicuramente un vino non da aperitivo, è più un vino da abbinamento. E con la selvaggina, un po' per la struttura, un po' per il corpo, un po' anche proprio per questa rusticità che lo denota, riesce veramente a trovare quello che è l'abbinamento perfetto, perché anche l'intensità proprio aromatica sia al naso ma anche la persistenza dal palato che sono in grado di reggere dei piatti tradizionali forti come quelli a base di selvaggina. Per intenderci dunque i vitigni autoctoni hanno popolato e continuano a popolare la denominazione dei colli orientali ma lo fanno andando perfettamente a braccetto con quelli che sono i vitigni internazionali. Grazie Grazie